Torna a riunirsi domani mattina alle 10 il Consiglio Comunale di Cava dei Tirreni. Dopo la seduta inaugurale della nuova consigliatura targata Vincenzo Servalli, ora il parlamentino cittadino comincerà a fare sul serio. Infatti, all'ordine del giorno ci saranno una serie di atti e documenti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2015. Tra tutti, spiccano i punti inerenti l'approvazione del piano economico-finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'adozione del sistema tariffario della Tari, la tassa su rifiuti 2015, e la modifica del regolamento per la disciplina della IUC, Imposta Unica, ed il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali per l'anno 2015. Sono tutti gli atti propedeutici al bilancio di previsione. Noi ci troviamo nella condizione paradossale, ma tutti i comuni, non è una questione soltanto di Cava dei Tirreni, che approviamo un bilancio di previsione 2015 ad agosto 2015. Quando dovremo cominciare a parlare, lo faremo a settembre ovviamente, del bilancio di previsione del 2016. Adesso praticamente è un bilancio di previsione quasi quanto un consuntivo, quindi sono situazioni paradossali. Abbiamo una serie di atti propedeutici al Consiglio Comunale, che approverà il bilancio di previsione, credo intorno al 20 agosto. Nell'ordine del giorno c'è anche la questione delle alienazioni. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno e quali saranno i benefici che il Comune ne trarrà a breve? Il piano è rimasto sostanzialmente lo stesso, con due variazioni più significative. Abbiamo tolto dalle alienazioni il tennis e lo abbiamo messo invece nel piano delle valorizzazioni. E poi abbiamo tolto definitivamente dal piano delle alienazioni la sede attuale dei servizi sociali a Via Sorrentino, perché lì verrà il punto IMSS. Abbiamo messo lì il punto IMSS, perché anche su questo c'è stata una battuta polemica, perché la sede che era stata immaginata dalla precedente amministrazione era molto ristretta, molto contenuta negli spazi. Lì veramente oltre un semplice punto IMSS di informazione non si sarebbe potuti andare. Invece nel punto IMSS che abbiamo individuato noi a Via Sorrentino, proprio per la capienza degli spazi, possiamo immaginare di dare qualche servizio in più ai nostri cittadini. E poi è vicino alle poste, quindi si crea un luogo di servizi, soprattutto per una popolazione anziana che ha facile accesso al centro storico della città. Il parlamentino cittadino inoltre sarà chiamato a discutere anche su tre emozioni presentate da Massimiliano Di Matteo, capogruppo consigliare di Amiamo Cava. Nello specifico Di Matteo propone la riduzione della tasi e della tari per le attività produttive presenti nelle zone soggette a lavori di manutenzione ordinaria, l'eliminazione delle strisce blu sul corso Principe Amedeo e l'abolizione o la rimodulazione dei contributo versato dal Comune per sostenere le spese correnti dei gruppi consigliari.